Ok, buongiorno a tutti, questo video io l'ho già fatto ed è la quarta volta che provo a fare questo video Sto clip iniziale perché mi si rompono tutte e tre le volte, mi sono rotti i video e quindi non li ho dovuto rifare E comunque ho perso l'unboxing, era il primo unboxing del canale, voleva esserci anche il titolo, il primo unboxing del canale Ma sarà un titolo del video, sarà diverso e niente Mi sono appena accorto che l'audio mi ha lasciato e niente, solo l'ho detto sigla Ciao 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 BenSound.com 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 BenSound.com